Sono accusate di trafficare in armi da guerra. Cinque persone raggiunte questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere risposta dal GIP di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arresti sono stati eseguiti alle prime luci dell'alba dai carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi e dai colleghi della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana. In esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, uno agli arresti domiciliari, è messa dal GIP del Tribunale di Lecce, dottoressa Antonia Martalò, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dottor Alberto Santa Catterina. In carcere Giancarlo Capobianco, 50 anni, già detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce. Francesco Gravina, 34 anni, già detenuto in regime di arresti domiciliari. Vito Stano, 44 anni, già detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto. Nicola Destino, 25 anni, già detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce. Agli arresti domiciliari invece, Nico Passiante, 21 anni, incensurato. L'operazione denominata Scacco agli Imperiali è il frutto di un'articolata attività di indagine svolta in perfetta simbiosi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Brindisi, relativa a un traffico di armi da fuoco, tra cui anche armamento da guerra e bombe a mano. Vila Fontana. Non si tratta qui di reati, diciamo, da colletti bianchi, da guanti gialli, ma si tratta di reati di sangue, quelli collegati all'uso di queste armi. Perché queste armi che sono state acquistate e distribuite non sono state ritrovate integralmente, ma ne sono state ritrovate solo parte e gli accertamenti che abbiamo fatto su quelle ritrovate è negativo. Noi comunque, sulla base degli elementi delle acquisizioni nel corso della fase delle indagini, riteniamo che possano essere state usate per reati di sangue. Dobbiamo continuare ad impegnarci e dobbiamo tentare di modificare l'atteggiamento dei francavillesi.